Ciao, oggi sono qui per raccontarti vita aziendale. Chi siamo, cosa facciamo, ma soprattutto perché abbiamo scelto di creare questo team, di dare vita a questo spazio. Vogliamo raccontarti la nostra azienda, la nostra casa Prodeco. Noi siamo fortunati, stiamo vivendo sia a casa, ma stiamo vivendo nella nostra casa Prodeco, nella nostra azienda dove condividiamo missione, visioni, approcci e tanti punti di vista che ci aiutano a crescere personalmente e professionalmente. È per questo che ti vogliamo dare un supporto, vogliamo farci conoscere, vogliamo intrattenerti e vogliamo anche portarti proprio all'interno della nostra casa, farti vivere i nostri momenti, le nostre riunioni, le nostre condivisioni, quello che ciascuno di noi ha da dare in base ai propri talenti. Per cui ti vogliamo far sentire in compagnia, non farti sentire solo e darti nuovi spunti, magari anche punti di vista che possono esserti utili nella tua missione lavorativa, nella tua missione professionale, nella tua missione, perché no, umana e personale. A questo proposito porteremo in scena, porteremo in campo tutti i nostri locali, i nostri ambienti, dove si svolgono le nostre attività, come si svolgono, con quali principi, quali sono i metodi, i principi, la missione, la visione che completa e che comprende tutto quello che siamo, tutto quello che è a casa Prodeco. Vogliamo renderti partecipe delle testimonianze delle persone, vogliamo renderti partecipe di chi è Prodeco, di quali sono le persone che condividono la visione con noi. Ogni giorno si mettono in campo, si mettono in azione in base alla loro mansione, al loro ruolo, a quello che devono fare normalmente e che quindi danno un contributo. Vogliamo parlarti non solo di loro in termini, diciamo così, lavorativi, di vita aziendale appunto, ma ti vogliamo anche raccontare quello che è la loro vita, quindi testimonianze anche personali, quello che loro sono al di fuori del lavoro, per farti vedere anche una realtà innovativa, una realtà che può essere a supporto in tutti i campi, professionale e personale. Per cui ti aspettiamo, seguici, noi saremo di supporto e aspettiamo da te preziosissimi consigli per migliorarci sempre di più, anche perché il miglioramento e la crescita sono uno dei nostri principi cardine, che poi ti racconteremo con molta più calma e con molta più focus, diciamo, sull'argomento. Per cui a prestissimo, buona giornata e buona casa Prodeco!